Ritardi nei servizi sociali, in particolare per l'assistenza dei cittadini torresi più fragili. Tante sono state le proteste negli ultimi giorni. Come si sta procedendo a Palazzo Baronale? Palazzo Baronale domani è all'attenzione del Consiglio l'approvazione e la ratifica del piano sociale di zona più un'altra delibera con una variazione di bilancio che li coinvolge. Le politiche sociali devono sempre essere una priorità per un'amministrazione perché poi riguardano gli ultimi, le persone più fragili sotto l'aspetto economico, fisico, sociale. Quindi è chiaro che l'attenzione dovrebbe essere particolare soprattutto se è una priorità delle linee programmatiche dell'amministrazione. È chiaro che in città ci sono una serie di difficoltà e sicuramente non sono soddisfatte nel migliore dei modi le istanze di queste persone su cui, ripeto, ci dovrebbe essere un'attenzione particolare. Da parte nostra per domani abbiamo presentato insieme anche al collega Cardarola un emendamento perché analizzando il piano sociale di zona abbiamo verificato che ci sono delle risorse che sono già abbastanza congure per alcuni servizi e pertanto c'è la possibilità di dare invece uno slancio di positività alle politiche giovanili. Il forum dei giovani in questi giorni ha manifestato una serie di difficoltà legate anche al mancato utilizzo della sede per via di difficoltà burocratiche di concessioni e i giovani devono inevitabilmente essere una priorità perché rappresentano un momento di speranza per questa città che negli ultimi anni sta trovando delle difficoltà amministrative non indifferenti. Il forum, tra le altre cose, ha sempre dimostrato in questi anni di mettere in campo delle iniziative di rilevo che hanno coinvolto numerosi giovani e che sono state anche di un certo spessore quindi destinare per loro 20.000 euro ci è sembrato un buon viatico anche per riavvicinare la parte giovane che un po' alla volta si stava allontanando dalla vita amministrativa. Speriamo che la nostra proposta domani possa essere accolta dal Consiglio.